Siamo a Bigolino per la quinta edizione di Bigoi a Bigolin, una manifestazione che non poteva essere più azzeccata di questa. La piazza è piena, il divertimento non manca e tanti buoni Bigoi in varie salse. È il primo anno che partecipate a Bigo e a Bigolì? Sì, ed è una bellissima esperienza. Vi aspettavate tutto questo successo? Ci avevano anticipato che ci sarebbero state tante persone, vedremo alla fine se è un successo e se il nostro ragù è piaciuto, il ragù di Oca. Grazie e buon lavoro. Come sta andando la serata? Penso bene, mi sembra che la gente ci sia, per Bigolino pensa che vada bene, per me è anche solo il caldo. Cosa avete preparato di buono? Il Bigui con la salsa di lepre. C'è molto movimento questa sera a Bigolino? Sì dai, questa sera è partita bene, adesso speriamo almeno qui vada meglio, nel senso con la musica eccetera, però la piazza è piena, quindi probabilmente è un evento ben riuscito, insomma ecco, come al solito. Grazie. 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 Grazie.